Il terzo appuntamento di Overtime, una vita oltre il calcio. Cosa c'è da dire? Il rapporto dei giovani con il calcio? Sì, soprattutto la voglia di far raccontare la loro prospettiva, il loro modo di vedere questo mondo perché pensiamo che attraverso il confronto con vari ospiti, in particolare ospiti importanti che si stanno alternando sul scenario di Overtime, è possibile trarre degli spunti importanti. In questo concorso che si chiama Il calcio con i tuoi occhi, i ragazzi dai 10 ai 26 anni possono partecipare attraverso un racconto breve e un cortometraggio e dirci come vedono loro il calcio. Non vogliamo più parlare noi, diciamo far parlare loro è forse la cosa più giusta. I giovani quindi diventano i veri protagonisti di questo sport che a volte sa anche unire e far uscire i valori sani. Sì, io penso che soprattutto è uno sport che deve aggregare, deve far condividere alcune passioni belle e autentiche piuttosto che lasciarsi prendere da alcune forme che io chiamo di valorizzazione negativa che possono un po' inquinare il calcio. È dovere di chi è impegnato nel calcio, io sono 40 anni che vivo in questa realtà, a farsi promotore e grazie all'associazione Overtime stiamo provando a portare avanti questo ragionamento. Ecco, come ha detto lei, è protagonista da oltre 40 anni nel mondo del calcio, vive il calcio da oltre 40 anni. Si è accorto di qualche cambiamento impositivo del mondo del calcio da questo punto di vista? Ma intanto resiste la passione, resiste l'innamoramento dei giovani per questo mondo. Noi siamo qui oggi all'oratorio perché in realtà basta fare pochi metri da questa sala e vedere che c'è la possibilità di prendere un pallone e cominciare a giocare a calcio. C'è questa grande voglia di giocare, di stare insieme ed è quella che va mantenuta. Il rischio è che tutto diventi prevalentemente un business e qualche volta anche soltanto un business se questo poi rovinerebbe il vero motore che è la passione. Mister, un'ultima domanda, una domanda d'obbligo. Siamo nell'immediato post della promozione della Salernitana in Serie B. Proprio parlando di giovani, di bambini, abbiamo visto tanti bambini per le strade festeggiare questa promozione tanto attesa. Un bel segnale per Salerno e per tutta la provincia. Sì, perché i bambini si innamorano di questo entusiasmo contagioso rappresentato anche ovviamente dalla vittoria, la vittoria di un campionato, ma questo grazie a una forte identificazione che c'è tra la città e la squadra di calcio. Questa non avviene in tutte le città. Per quanto riguarda Salerno e la Salernitana questa identificazione è molto, molto forte. Ringraziamo mister Nicola Provenza e complimenti per l'iniziativa. Grazie. Siamo con Eugenio Corini, non ha bisogno di presentazioni. Overtime, una vita oltre il calcio. Il suo contributo è il contributo dei giovani e dei bambini per questo sport meraviglioso. Sì, è un piacere raccogliere l'invito di Nicola Provenza perché se posso testimoniare quello che è stato il mio percorso, le mie esperienze che ho vissuto da bambino che sognava di diventare un calciatore, poi ho avuto la fortuna di diventarlo e che adesso ho sviluppato con la nuova professione che è quella dell'allenatore. Di conseguenza svilupperemo questi team con i ragazzi per cercare di essere di supporto e di aiuto. Mister, lei è stato tanti anni nel mondo del calcio e lo è tuttora, prima come calciatore e adesso come mister. Vede qualche cambiamento in positivo per quanto riguarda i valori sia dei ragazzi e dei bambini che si avvicinano sempre di più a questo sport? Ma questo è un lavoro che non è mai finito. Ci sono momenti positivi, cadute, come la vita poi ci insegna. L'importante è non demordere mai e cercare sempre di sviluppare temi positivi, essere di sostegno. Gli errori si fanno, l'importante è capirli e cercare di migliorarsi. Mister, un'ultima domanda, una domanda d'obbligo diciamo. Siamo nel limitato post della promozione della Salernità in Serie B, non so se ha avuto modo di seguire. Una squadra che è stata portata in quattro anni dalla Serie D alla Serie B. Come giudica l'operato di questa società in un mondo del calcio che adesso è sempre più in crisi a livello economico? Devo dire che da questo punto di vista ha fatto un grande lavoro in una piazza che merita questi palcoscenici perché ha supportato una grande tifoseria e di consuenza complimenti alla società, complimenti a Menichini che si è appunto portare la squadra in Serie B anche perché quando devi vincere per forza non è mai facile farlo e invece secondo me è stato molto bravo e complimenti ai giocatori che sono poi gli artifici di questa promozione che sono loro che scendono in campo. È mai stato vicino alla casacca Granata? No, devo dire che né da calciatore né da allenatore non c'è mai stato concretamente una possibilità di poter venire a Salerno. A noi avrebbe fatto molto piacere perché abbiamo sempre apprezzato le sue qualità di centrocampista. Grazie, grazie. Fa piacere. Grazie Eugenio Corini e grazie mille. Siamo condonato di Stasi, presidente provinciale Figgici Salerno. Allora, terzo appuntamento per Overtime, la vita oltre il calcio. Qui siamo ai Salesiani di San Giovanni Bosco di Salerno. Le tue impressioni? Terzo appuntamento, ci hanno visto impegnati precedentemente, come ben sapete, all'università e al liceo Tasso con l'obiettivo di incontrare i giovani per lanciare dei messaggi positivi. Oltre il calcio c'è qualcosa in più, c'è una vita, quindi non bisogna solamente soffermarsi nell'attività calcistica, bisogna non illudire i ragazzi e impegnarsi anche in altre attività come lo studio che sono fondamentali per il futuro dei nostri giovani calciatori. Presidente, allora una domanda d'obbligo. Veniamo dal post-promozione della Salernitana. Abbiamo visto tanti bambini, tanti ragazzi festeggiare in strada. Questo è un bel segnale di attaccamento proprio dei giovani verso la squadra della propria città, della propria provincia? Un segnale positivissimo abbiamo dato noi qui a Salerno con la promozione della Salernitana e con la presenza allo Stato di tutti questi ragazzi giovani. Mi tocca ovviamente toccare un argomento che è quello di Torino, argomento messaggio negativo che è stato inviato durante il terbi Torino-Juventus e sbagliato anche l'espressione di un allenatore che parla di follia di portare i bambini allo Stato. Non è folle portare i bambini allo Stato, è folle non portare i bambini allo Stato invece. Eventi come questo servono forse per prevenire queste situazioni che sono accadute, come quelle di domenica scorsa? Servono per diffondere una certa cultura calcistica nel rispetto dell'avversario e del tifoso antagonista. Grazie a Donato Di Stasi, presidente provinciale FIGC Salerno. In bocca al lupo per l'iniziativa. Crevi, grazie. Siamo con Alessio Romano, mister della rappresentativa provinciale FIGC. Allora avete raggiunto la finale del campionato. Sì, abbiamo raggiunto la finale. È stata davvero una bella soddisfazione riuscire a regalare a questi ragazzi una gara di cartello perché sono ragazzi che giocano nelle categorie prima, seconda, terza o junior e standard 17. Diciamo che un'atmosfera così difficilmente possono viverla. Quindi siamo riusciti a strappare a cinque minuti dal termine il gol della vittoria e quindi tre punti importanti che ci hanno consentito di raggiungere la finale che discuteremo contro Caserta. Contro Caserta prima o dopo di Salernitana-Casertana? Che sarà il derby che chiuderà il campionato di Lega Pro? Contro Caserta prima del derby, qualche giorno prima, cioè mercoledì prossimo, il 6 maggio, quando affronteremo Caserta in quello che sarà diciamo uno spezzatino, un anticipo del derby, un antipasto del derby che può andare di scena la domenica successiva. Servirà anche a creare un clima un po' più distensivo nei confronti di questa partita? Anche perché i segnali non sono tanto incoraggianti da questo punto di vista? Sì, questa diciamo che è la finalità principe di questo tipo di manifestazioni. Sono manifestazioni che nascono con l'intento di avvicinare i ragazzi, di fare gruppo, sia tra delegazioni e delegazioni, trattandosi di tornei istituzionali, ma allo stesso tempo anche di fare gruppo dei ragazzi stessi che compongono le delegazioni. Noi non a caso abbiamo una componente mista, abbiamo ragazzi di Salerno, ragazzi di Nocera, che anche in tal caso siamo riusciti a far sì che facessero gruppo e quindi anche per distendere poi eventuali climi che potrebbero essere un po' più tesi quando ritornano con le loro società di appartenenza. Quindi la finalità della rappresentativa è essenzialmente questa, quella di spostare l'attività della federazione sul territorio, di rinsaldare quei rapporti di amicizia con le altre delegazioni e allo stesso tempo quello di far sì che i climi si mantengono nei limiti dell'agonismo e basta. Il tutto concilia quindi con la finalità principale di questa manifestazione a cui siamo oggi ospiti, Overtime, la vita oltre il calcio, i giovani ragazzi protagonisti di questo sport per diffondere valori positivi. Certo, certo, è la finalità diciamo base del calcio, il calcio come lo sport è trasmissione di valori e quindi voglio dire a maggior ragione lo sport a livello dilettante è trasmissione di valori e basta perché voglio dire vengono meno tutti quegli aspetti che magari possono essere interessi economici, finalità economiche e divertimento e basta e tale deve rimanere. Grazie mille mister e complimenti per l'obiettivo che state raggiungendo con i ragazzi. Grazie a lei, complimenti li lasciamo diciamo ad una prossima seduta. Complimenti già per la finale, raggiunto. Complimenti per la finale li accetto, grazie mille. Siamo con il presidente regionale della FIGC Campania Enzo Pastore. Allora, Overtime, la vita oltre il calcio, una bellissima manifestazione di sport dove ci sono incontrati tanti giovani e hanno rinnovato la passione per il calcio. Beh, insomma, bisognerebbe farne a centinaia, magari tra i tifosi del Torino e della Juventus, così eviteremmo queste indegnità di questi giorni che non sono solo dei tifosi del Torino e della Juventus, ma che deve, come dire, cancellarsi definitivamente perché bisogna assolutamente di tornare ai valori dei quali si è parlato tanto oggi. Mi è piaciuta molto la performance di Sergio Mari, bravissimo, veramente commovente, straordinario, bravo. Tiziano Marelli, ottimo. Eugenio Corini, persona seria, con la freddezza tipica dei Bresciani, ma con la serietà anche dei Lombardi, non tutti ovviamente, ma Corini sicuramente sì, come calciatore, come mister, come esempio di ottimo atleta e di ottimo protagonista del calcio. Un calcio del quale si parla troppo spesso male e poi bisognerebbe far venire chi ne parla male. qui all'oratore dei Bresciani a capire che se nel 2015 si parla ancora di valori, con tanta convinzione e con tanto entusiasmo, forse e senza forza c'è speranza in un avvenire diverso per il calcio e direi per la nazione. Presidente, manifestazioni come queste servono anche per prevenire momenti possibili, momenti di disordine appunto nello sport? Siamo alla vigilia di un derby importantissimo. del calcio, un calcio del quale si parla troppo spesso male e poi bisognerebbe far venire chi ne parla male, qui all'oratore dei Bresciani, a capire che se nel 2015 si parla ancora di valori, con tanta convinzione e con tanto entusiasmo, forse e senza forza c'è speranza in un avvenire diverso per il calcio e direi per la nazione. Presidente, manifestazioni come queste servono anche per prevenire momenti possibili, momenti di disordine appunto nello sport? Siamo alla vigilia di un derby importantissimo in campagna, Salernitana-Casettana, tra l'altro la Salernitana reduce da una freschissima promozione in Serie B. Serve secondo a suo avviso una manifestazione del genere per allentare un po' la pressione, la tensione tra le ricoserie? Caspita se serve, serve davvero, ho detto se ne vorrebbero centinaia di queste manifestazioni, bisognerebbe far venire quei genitori, le mamme che prendono a borsettate gli arbitri o gli avversari, i genitori che si scazzottano fra di loro, chiariamo non certamente soltanto in campagna, coloro che riescono addirittura nella vigliaccata di picchiare un arbitro donna, è successo anche questo, non in campagna e speriamo che non succeda mai in campagna, è successo anche in zone ritenute civilissime, la civilissima Versilia dove un papà assistente dell'arbitro o guardalini come si diceva una volta, non trovò niente di meglio che frantumare i denti ad un giovane arbitro solo perché aveva espulso il figlio calciatore della sua stessa squadra per la quale fungeva l'assistente, ma non vogliamo come dire insistere in tristezza, lanciamo appunto un messaggio, questa lenitana casertana, accogliamo chi viene da Caserta in modo civile, non facciamo in modo che si ripeta quello che è successo tanti anni fa, non facciamo i paragoni, le comparazioni tra chi si è comportato peggio tra i tifosi della Caserta e della Sede, semmai facciamo una gara a chi si comporta meglio, non deve essere un'utopia, deve essere una certezza per il futuro, è troppo da idioti picchiarsi, rincorrersi magari anche con armi improprie e talvolta perfino proprie per una gara di calcio, per una gara di calcio bisogna gioire, lo sfottò certamente, certamente il campanilismo, altrimenti viene meno anche il valore di una gara di calcio intesa come festa popolare, ma non più di questo, non al di là di questo, mai over questo, semmai qualcosa di over che ricordi i valori, che ricordi la serietà, che ricordi la confussezza, che ricordi non sport, però posso aggiungere, noi parliamo sempre di sport, ma ecco, se per esempio non ci fosse questo grande progetto impiantistico che abbiamo lanciato col Presidente Caldone, ma mi volete dire dove andremmo ad educare i ragazzi? Nelle amole, sì, qui all'oratore dei salisiani certamente sì, ma io ricordo bene che qui si giocava al calcio e giocando al calcio abbiamo appreso i principi dello sport, quindi tanti impianti sportivi a chiuso e all'aperto, tutto ciò che può essere utile senza necessità di tribune contrapposte, di parcheggi separati, come si giocava tanti anni fa dove non è che non succedesse niente, ma ci si limitava davvero qualche volta a qualche scalzottata che poteva essere anche un allenamento fisico, ma non più di questo, non si può davvero, non si può proseguire in questo precipizio che non è un precipizio del calcio, è un precipizio della nazione, non certamente del calcio. Vi permetto di osservare che il Corriere dello Sport in prima pagina ieri ha titolato Dove è lo Stato? Ecco il quesito che bisogna porsi, lo Stato non può arrendersi al cospetto dei delinquenti. Salerno sta dimostrando una maturità sportiva straordinaria, ma deve ancora crescere, deve affermarsi, io sono salernitano e lo dico quindi come un auspicio e con orgoglio e con pierezza, come la migliore città sportiva d'Italia. Non deve accontentarsi di avere soltanto i complimenti per determinate positivissime circostanti. Dobbiamo perpetuare, ripetere sempre, ribadire la fierezza di essere salernitano in campo italiano. Presidente, un'ultimissima battuta, siamo come abbiamo detto prima nell'immediata post della promozione della salernitana in Serie B, abbiamo assistito a un autentico miracolo sportivo, ci sono in questo momento realtà in Serie A e in Serie B che soffrono la crisi economica, abbiamo visto il caso del Parma per esempio. La società della salernitana collotito e mezza Roma in quattro anni è portato alla salernitana, una città, un'intera provincia dalla Serie D, come lei ricorda bene, alla Serie B. È un autentico miracolo. Sì, io non mi stancherò mai di ripetere, l'ho detto tante volte ma lo ripeterò sempre, che abbiamo finalmente una bellissima società. Io devo dire che avevamo già un'edizione bellissima della salernitana con Nello Aliberti. La conclusione non è stata cucinchiera, ma non dimentichiamo abbiamo avuto tanti anni di B e un anno di A che non erano mai esistiti nella storia. Ecco, credo che con questa nuova società che è solida, forte come quella di persone competenti, capaci e tra l'altro, come dire, diverse di carattere e non è vero che due caratteri diversi prendono un fuoco facilmente. Dobbiamo dire francamente che è una coppia splendida e che alla quale dobbiamo essere tutti grati con i salernitani perché davvero ha riportato in alto Salerno come calcio, come sport e poi la massima espressione sportiva da sempre in questa città, ma soprattutto garantisce un futuro a tutti noi. Ecco, facciamo in modo che questo futuro sia roseo sotto tutti gli aspetti possibili e immaginabili. Io sono nato il 49, primo anno della salernitana in Serie A. Ho visto l'anno della salernitana di nuovo in Serie A con un tristissimo epilogo, quello del 24 maggio, appunto del 99, dopo 50 anni, spero di non dover attendere 50 anni. Sono sicuro che non li attenderò, anche perché non sarei in grado di attenderli, ne ho 66. Quindi speriamo che nell'arco di uno, due, tre anni massimo la salernitana approdi di nuovo a quella Serie A che è il sogno di tutti noi e che ci consentirebbe, come dire, di vivere con grande gioia la festa domenica del tuo sport. Presidente, la ringraziamo e mi consenta di chiudere con una battuta. Per il lavoro che sta facendo quotidianamente per lo sport in campagna, gliene auguriamo altri 100. Grazie, grazie. Mi accontento di 34. Tomarelli, Overtime, la vita oltre il calcio. Il suo contributo in questo incontro fantastico, pieno di giovani, pieno di ragazzi, un momento in cui si ritorna al valore sano dello sport. Lei è uno scrittore a servizio dello sport? Potrei dire così, ma semplicemente lo sport è la mia passione, per cui è stato un piacere mettermi a servizio suo, se mai è successo così, perché vivere senza sport, vivere senza calcio, senza calcio pulito e senza quello che mi ricordo fino a quando andavo da bambino a San Siro non sarebbe stato altrettanto bello. Ecco, oggi come trova il calcio rispetto a 30, 20, 20, 30 anni fa? È cambiato in meglio o in peggio, secondo lei? Allora, è cambiato in meglio, se vogliamo intendere in meglio, la velocità, la muscolatura e, come dire, la selezione, che poi diventa naturale dei calciatori. È cambiato in peggio se pensa a qualcosa di molto nostalgico, come erano le immagini bianco e nero in televisione, le maglie, che restavano le maglie sempre per tutta la stagione, i numeri sulle spalle che volevano dire qualcosa, la mancanza, mi manca moltissimo, per esempio l'idea di aspettare il secondo tempo delle partite per sentire alla radio tutto il calcio minuto per minuto, mancano queste cose. Ed è avuta un'evoluzione troppo violenta, se posso dire. Però, diciamo, è questo il mondo del calcio di adesso e ce lo dobbiamo tenere, anche perché ci regala dei grandissimi momenti. Se ho capito bene, quindi è un calcio adesso meno romantico e più basato sul marketing? Direi che non è più romantico per niente, è troppo basato sul marketing. Forse se si riuscisse a fare una mediazione fra queste due cose si tornerebbe a qualcosa di meglio. Essere romantici un po' di più in fondo non è difficile. Forse vedranno il calcio romantico i ragazzi che erano oggi qua e fra trent'anni chissà cosa sarà e a loro mancherà qualcosa di quello, ma voglio dire a me Rivera, Mazzola, il mondiale dell'82 non li può togliere nessuno e non li cambierei per nient'altro. Ultimissima battuta, siamo qui a Salerno nell'immediato post festeggiamenti della promozione della Salernitana in Serie B. Abbiamo visto tanta gente per strada a festeggiare, bambini, ragazzi, attaccati anche alle radioline durante la partita della Salernitana per seguire il risultato della competitor Benevento. Questo potrebbe essere un ritorno al passato? In che senso un ritorno al passato? Nel senso che rivivere queste cose come una volta? Certo, certo. No, no, sicuramente. Poi devo dire che l'ho vissuto anch'io perché avendo questi amici di Salerno che mi hanno avvicinato alla Salernitana mi hanno regalato una maglietta, una una sciarpa della curva, mi ha fatto seguire la stagione della Salernitana fino alla fine ed è come se l'avessi vissuto anch'io e sono molto contento che sia tornato in Serie B. La ringraziamo Tiziano Morelli e grazie in bocca al lupo per tutti. Grazie. Secco secco, con la tuta dietro sul petto, aveva più lunghe sulla faccia lui che tutti i fiumi sulla cartina geografica che avevamo a scuola, però a pallone sapeva giocare azz, come ci date i collo vini o banchiariella. Si va bene, ma giocate si vede, ma sempre vecchie. Noi abbiamo bisogno di una lontana, una lontana che ci fa colare, abbiamo bisogno di una lontana che ci fa fare bene il gimnaster, addornare, ci fa saltare in testa, oh, noi dobbiamo frizzare i campionati, noi dobbiamo fare il provino con la Juve. Ma no a Juve sta, Pia, 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 Castellammare, ah, Juve, vero, era vero, solito dopo due giorni passati con lui, noi a tenerci in mano gli addominale, lui tic e tic che continuava, lui a fare ginastica a corpo libero, fresco, fresco e noi che non ce la facevano, lui a saltare in testa e noi che non ne prendevamo neanche uno e che tutta un'accelerazione intappi la nostra, non sappiamo ancora che dobbiamo dare la colpa. Ragazzi, siete bravissimi, inconsapevolmente bravi, questo fu il primo complimento che ci facevano, un allenatore come lui che ci diceva bravi, senza sapere che la parola precedente era quella più importante, inconsapevolmente non sapevamo che cosa voleva dire terza media, Sandro Pastorino, ma chi studiava ragazzi inconsapevolmente? E invece l'abbiamo capito con gli anni, sì effettivamente era la nostra generazione inconsapevolmente, noi non sapevamo per quale motivo andavamo a giocare nei tornei migliori della zona, in tutte le altre segnative regionali e provinciali, a piedri, ci fermavano tutto, ma io appena capito io il passaggio, ci davano un gelato in estate perché faceva caldo, è un te caldo in inverno perché faceva freddo e questo sempre è una continuazione, a un certo punto ci davano il te caldo, è stato un quadro di pazza. Grazie a tutti!